Le scritte sono state cancellate con un po' di vernice bianca, ma l'insulto razzista è rimasto negli occhi e nel cuore di Bacari Dandio e della famiglia italiana che lo ha adottato. Senegalese, 21enne, Bacari, su richiesta della famiglia e per tutelarlo non mostreremo il suo volto, oggi studia ed è una promessa dell'atletica leggera italiana, ma ha attraversato il deserto e il mare fino a Lampedusa. Essendo orfano di padre ha ottenuto protezione umanitaria ed è stato poi accolto ed adottato da Paolo Pozzi e Angela Bedoni, una delle tante famiglie lombarde che da anni offrono ai minori stranieri arrivati soli in Italia una casa ed una famiglia. Le scritte nell'androne del cortile di Meleniano, nell'area metropolitana milanese dove Bacari vive con la sua nuova famiglia, sono apparse all'improvviso ed hanno scosso profondamente l'intera cittadina, dove simili manifestazioni di intolleranza non si erano mai verificate. Meleniano è sempre stata una città accogliente e solidale, per cui ci preoccupa anche come famiglia nel senso che c'è un brutto clima in Italia oggi e questa è un po' la conseguenza del clima che c'è in Italia, in cui è come se si fosse stappato un tappo, per cui tutti si sentono autorizzati a dire le peggior cose e diciamo la verità, non c'è un bel clima oggi, c'è un clima di odio, di intolleranza, ecco che non va bene.